Col paccio di Massimo Ferrarese in provincia di Taranto. Il luogotenente di Alfano nel Salento porta nel nuovo centrodestra il sindaco di Sava, Dario Iaia, e con lui anche tre consiglieri comunali e due assessori. Il sindaco di Sava, eletto alle ultime elezioni tra le fila dei finiani, trasloca con i suoi nel nuovo movimento politico nato dall'ascissione del PDL. Anche in provincia di Taranto, dunque, è partito l'arruolamento. Dopo il vice sindaco e il presidente del comune di Mandure, rispettivamente Nicola Mosco Giure e Nicola Di Monopoli, il movimento di Massimo Ferrarese conquista il sindaco Iaia. A ufficializzare l'adesione a Sava sarà in una conferenza stampa domani lo stesso sindaco insieme a Massimo Ferrarese. Iaia parla di svolta politica per l'intero gruppo, un passo importante riferito insieme ad una persona degna come l'ex presidente della provincia di Brindisi. Ma c'è da giurare che quella di Iaia sarà solo la prima di una lunga serie di adesioni. Intanto è il primo sindaco a traslocare nel nuovo centrodestra a Taranto, nel capoluogo. C'è già stata l'adesione di due consiglieri comunali e considerate le tensioni che da tempo agirono nel PDL, certi malumori nei confronti del leader fitto non sono da escludere. A breve altre adesioni eccellenti. Grazie. Grazie.